Mi aspettavo una reazione di orgoglio, devo dire che da questo punto di vista i ragazzi non mi hanno deluso, penso che il dato dei 20 rimbalzi offensivi la dica sull'averci provato in maniera importante, è chiaro che in questo momento le risorse sono queste, le energie sono queste, adesso abbiamo messo tutto dentro la scatola della stagione regolare dell'orologio, prendiamo fuori la scatola vuota dei play-off, quindi bisogna essere bravi a portarsi le certezze, a mettere nella scatola vecchia le insicurezze e gli errori e chiaramente speriamo di recuperare qualcuno degli effettivi per andare a giocare la nostra serie al meglio delle nostre possibilità.